Si credi di aver sentito di tutto, ora sei tu, Radio Music Evolution, back to the music. Hey! Sì! 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 So, opinioni e non ti basta, bisogna di essere canuti originari dall'inferno, o forse il silent end. Non è resta nella tua vita, con quel taglio e tutti quei testi, stoppati le unghie e non il colpo è deciso a lasciare la frase in sospeso. Miliardi di commenti nella testa, sembra di essere l'inchiusi nella stanza dell'elitimista, milioni di opinioni e non ti basta, sembra di essere caduti in un giro nell'inferno, o forse il silent end.